buongiorno a tutti quanti i nostri visitatori stiamo giocando a questo bellissimo gioco cooperativo poi quattro giocatori posi scendi giù giustante a surf heal e istante a throw grenade e ho messo mouse middle e mouse ex salute se ce n'hai mouse 4 e 5 non so che cazzo non c'era se non sai cosa trasta a me è morta scrochiello che non devi andare in testo in mouse vediamo cosa si può forgiare perchè tiene la cera lacca sull'armatura io c'ho questa bellissima zoccoletta che si chiama way watcher manual dodge che cazzo è ok manual dodge manual dodge e questo qua no non è questo qual è il manual dodge scattolo indietro scattolo indietro restante a surf heal eh ti prende automaticamente il medico e tu ti cominci a curare no 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 che è alto che sei più alto di me eh tu sei tipo bruciato dai ok e vero c'ho il cappello che è più alto no di più mi ho in culo cazzo di più è già eh lui è un... sentiamo la sua pronuncia sir sir ecco mi è passato davanti ok sir ma un cazzo no 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 ti spiego può cambiare sia dalla prima o la seconda magari sia sulla seconda oppure dipende dall'arma perchè ad esempio io adesso c'ho ehm lascia e non me lo fa però se tipo cambio arma e prendo lo stocco posso sparare con la venta sparo col culo mentre c'ho lo stocco ma neanche io non c'ho attacchi speciali per questo per adesso io non c'ho un cazzo e lui c'ha livello 4 eh guarda si eh andiamo a giocare eh 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 vabbè dai aspettiamo sgm eh eh si è vero guarda 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 che 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 aspetta ma tu che missioni hai fatto hai fatto la prima si possiamo fare le successive se mi hai fatto a livello facile facile facciamolo a quella prima vuoi fare la prima a livello normale che campi eh body da un body ma che cazzo facciamo a livello hard facciamo a livello hard yeah yeah facciamo a livello hard yeah yeah un po' nightmare dobbiamo percare facciamo a livello hard perché sto pieno perché non posso farlo ovviamente non abbiamo il livello oh no me l'ho scregato ehi ok attenzione diciamo è un bel lady no aspettiamo il quarto ah no aspettiamo sto vedendo sto cercando stai 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 che va io mi spacca la merda stai tie stai corri a f2 sai quello ha visto il nano il nano un gioco di questo tipo c'è sempre il nano Ma non c'è lo scudo, questa ricazza Eccolo qua il mio scudo No, no quello, proprio scudo scudo, dico Un cazzo! Questi qua, vedi? Cazzo, dicono... Cazzo, dicono... Guarda, non cambia un cazzo, percadio Se si è spastico, se si è spastico e basta Adesso, 40 frecce per uccidere un rat Ma quanto livello c'è, questo 38? Questo... Questo... Sì, è uscito Guarda, va a fare colonna ULÀ Ah, è data, è persa Signori, stiamo per affrontare un livello alto Un livello basso Vediamo cosa succede quando vogliamo rompere un gioco Il mio nome è il Great Behold in Magnus Town E tu devi andare in un modo E farci il mondo sapere che siamo sotto attacco Guarda le guardie per il vostro attacco E con alcun lato, potrebbero assistere Ma con alcun lato, potrebbero assistere Assistere? Sono 40 tank Non quando sono british Ah, fa coloschi qua questa p***a No, vediamo la luna Non si può fare un c***o Non si può fare un c***o Non si può fare un c***o, vabbè Via che ambientazione amiche 2500, che c***o perché è 2500? Mi c***o vero Che data tarocca c'era? Serio? Si, era proprio tarocca 2500 a 5G Ah, non si può fare un c***o No, non si può fare un c***o Non si può fare un c***o Si, era un c***o Che era un c***o E la niente ...i si... In disgustare Stato, anche il c***o Un c***o Si, dovevi già sapere di ralero vabbè, si stronzo no, 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 no sta per tutto sono... sono livello 50 eh, va bene questo ci faggio abbiamo vinto si carica a morte che fotte tu? faccio del cazzo senza mangiare la metà vita ok, no, no voglio stare il cazzo, cazzo ma no ma che cazzo fa? c'è un ammazzetto messo è un ammazzetto qua sopra qui mh, guarda qua, c'è un mè di grito Ah ma tu non parti senza medica? E' stravosto Cosa è? Senza medica Eh infatti Eh vabbè ma dove va? Guarda come Mena è a Borne Con il suo coltello Con il mio coso inutile Coltello per fare degli effetti biscottati E col marmellato Sì Ah io qui partivi la prima volta Perché Borne sa che giocava in una partita tipo Ah poi c'è una freccia Fanno culo io Vabbè tanto io non ho quello dopo un shot Ah bravo io Bravo io Zergo tava Zergo tao Zergo Zergo Oh szy Scusa, Sbakenor! Non fasto, non fasto Cut! Oddio, c'è il tecno Giocare! Sei il sorcione! Tendi Sei il sorcione! Non c'è! Ah no! Succione! Eh, che si! Non è andato male Canto è arrivato? Non è andato, non è andato Sì, ecco si spade C'è un'altra cosa Ehm... C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa No, non dite niente Siete proprio degli stronzi No, non è vero, eh Ma c'è te che nella madonna Ma che dobbiamo fare? Ma dobbiamo andare Dovete mandarmi un messaggio e dirmi compralo Compra! Compra! Che è anche in offerta Eh, ho visto 23 Ma che 23 22 e 39 No, nego brolesi di tarocchi Non lo facciamo noi Mi eravamo comprato su un sito per a qua di ciò Ah, che bella partita, eh Datemi il link che lo compro anch'io Ah, non lo so È tipo come Left 4 Dead Stai guardando tu il stream? No È tipo Left 4 Dead Ho letto le recensioni In effetti Interessante No, beh io lo compro anche a 22 e 39 Tanto Eh, vai! No Hai messo un normale Eh, sì, insomma Se non vuoi fare tante storie e poi... No, no Compro lì 4 euro Chi cazzo se ne fredda No Adesso Sì, ma tanto fa tutto lui adesso Cotto il male, eh No facciamo un cazzo Qua è la nostra piada VAMO VAMO Super soft Ma I know of one last stoppap In the markplats Alisha Will meet you there Get moving Beat the ratmen to it Bene C'hanno piegato qua C'hanno piegato Ti hanno messo a 90 Gli sanno Poi ti devi fare lo scudo Appena c'hai lo scudo Fatti lo scudo perché è utile come un culo C'è Ma non è un garza E' un stroppino Porca C'è C'è Eh, cosa c'è? Vabbè No, no, no Vabbè 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 La maga dovrebbe essere abbastanza piccata Ah, lì c'è un Tome Dai cazzo Questa non fa questa Questa non fa questa Quella Nooo Ah, quella che ieri c'hanno distrutta Ah Io Tome Ho trovato Tome Si, hai bisogno un po' Soffrire la mano Eh, si No Prendi un cazzo Non ti dai premi di merda Si, si, lei Si Ehm, sarebbe Guardate Già Si detection Nasi Finna Finna Questa Fai Sì. 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 E cosa c'è da trovare delle cazze? Sì. Non in tutte le cazze, ci sono delle robe, tipo dei libri oppure delle specie di cubi del cazzo che ti danno appunto alla fine. In generale, se lo trovi di là, le ricompense maggiori. Qui c'è qua, qui c'è, qui sta? Si può buccare? Ma che eri? Oh! Sì. 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 Sì, vabbè Viene da una volta, ciò volto da una volta Sì, vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè oh no, andiamo a salire in casa c'è la propria l'ho pesata 20 giga che dovrei aspettare un po' eccolo arriva il super son Adò Ah, c'è gustosa, eh? Oh, basta! Sono dei barati, c'è da ecco tutto Sì, è morto Sì, si ha fatto tutto lui di nuovo, ah? Ah, però ha fatto molto più danza, c'è una nuova Oh, c'è qualcosa dietro Sì C'è sangue Ma un ragazzo scappa Puglia poi, di Roiz Non c'è di Roiz Non c'è di Roiz Ah, di Roiz Ci troviamo già Che cosa ne è? Sì Solo Poké o Multimato Eh, non capito, eh? Sì, non capito, eh? Sì, non capito 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 Sì, sì Ma, le costruitto Sì, non capito Sì, non capito Sì, non capito Sì, assi Non capito Non capito Guarda Sì, sì Spadding in the shende Spadding in the shende Spadding in the shende Market square Minima Market square Ma come accorno Zuuuut 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 I think it was bad I think Yeah Pfft Ddd ou they Ncc i i i i E' un po' di più! Da dove? No, non c'è una schiena! E' un po' di più che c'è la ragione di morte! C'è un po' di più! C'è un po' di più! Non c'è un po' di più! No, c'è un po' più profondità da 2G! Ah si? E' un po' di più! E' un po' di più! E' un po' di più! C'è 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 un po' di più! Ah, ma tutto questo è dovuto Ah no Che è? Che è che è giù? Ah ma quando sta Non è che volevate giocare un po' anche voi. Ogni volta che lo triemo ci dicete anch'io. Quattro ratta. Non c'ho cazzo di munizioni. C'è no, c'è il pezzo di merda qua. Però ci sono cinque personaggi. Sì. E' una cosa strana. Questi personaggi si giochi in quattro. E' perchè... Un'altra non pa' che sono tutti diversi. C'è uno ha le sue... No. Potevano far giocare in cinque. Tre. Il problema è che poi... Siccome... Tu puoi giocare solo uno, non puoi giocare lo stesso eroe sulla stessa partita. Quindi magari uno non ci ha messo uno di più per scegliere un eroe che magari un altro ha già preso. Eee... Si è una prima squadra. E'... E' una prima squadra. E' una... E' una prima squadra. e me lo puoi dare comunque vi presento la nuova recluta non ci conoscevamo perchè abbiamo meno vita? adesso c'è anche la faccina muova buongiorno 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 anche tu te lo sei preso eh si me lo sto prendendo perchè come si fa quegli stronzi li lo comprono non dicono niente ieri sera ieri sera abbiamo toccato insieme che ho fatto vincere che potevi dire non si può capire è giusto che lo scaricavo stanotte questo ragazzi ha fatto vincere bellissime non mi voglio l'abbine abbastanza io è quello non ti merita no eh no guarda ma tu dicevo Ivan hai guardato se c'è la possibilità di cambiare impostazioni qui fino a renderlo su cosa su questo gioco si oppure è molto pesante oddio lagga gli altri vabbè ma tu hai il ho sbagliato dovrei provarlo c'è proprio la parola eh vabbè eh vabbè eh 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 ok dai Ivan aspetta che sono in mezzo a battaglia aspetta ma se io vado in tweet eh sì mi ricordo più l'Underscore ahahah non mi ricordo più l'Underscore non mi ricordo più l'Underscore ahahah dove l'Underscore dopo user ID user ID user ID trovi as Google per i è qui c'è un altro boar c'è un boar ma che cazzo state facendo? che bellino è arrivato è arrivato prepotente ciao cento stanno giocando a questo ciocco questo è gioco che figa coprite tutti tranne io scusa ma se c'ho un sacco in mano come faccio a coprire? copri col sacco io lo butti ma che figata ma tu come stai giocando in prima persona però adesso sono morto mettete un po' la prima persona non appena mi mi rivivo ti vai ascoltare un po' l'audio perchè sentono le voci si perchè è strano il stream si sente si ots ah ok allora un po' di silenzio come lo senti dell'audio mi viene a soldare mi viene a soldare mi viene a soldare ti guarda? o ti sembra? mi sembra che era un figato ti sei innamorato è bello è bello non voglio morire nooo non voglio morire non voglio morire si è un left con i tuoi perchè non fanno un left con la tomba? guardali 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 questi 700 morti eh la mamma non è in prima persona si si è in prima persona palestra ah si? ma che sti dati del cazzo qua? è quello ultimo qua dove sposti la gente c***a bro il polizio qua ma la mamma sono i punti ma che missioni siete già? la palestra stai sbiliando un pezzino da ascia ma la sua terza un anno è solo quante missioni avete fatto? tre tre ma sono tipo come le 4 dead puoi rifarle e poi andare avanti indietro come vuoi ah ecco ci sono lui ancora preparatevi a rifarle tutto lui ma c'è anche la possibilità di giocare 4 contro 4 e usare gli infetti altri no adesso no tutto il tipo quanto l'avete pagato? 18 noi abbiamo pagato 18 prendendolo da instant gaming tutto l'è riscontato ma su steam è 22 eh? si su steam è 22 io sto comprando 22 io sto comprando 22 tutto lui ha fatto ecco il gioco in inglese è stato finito eh purtroppo si è troppo difficile troppo difficile ragazzi ehm zacchi era quella della prima missione zacchi oh oh ma viene registrato è un po' difficile eh eh no eh è bella mi piace eh è bella 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 mi sono aspettato un attimo vedete com'è all'inizio mi sono passato anche di livello sicuramente io qui c'è blockeria qua non carica sta cosa è qua si si ma ti sopra dai 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 eh ti sopra abbiamo il bot adesso eh non abbiamo più quello qui c'è ah jay ti abbiamo perso ma ne strumano dai ma c'è anni dobbiamo entrare dentro da pottecari eh c'era anni ci salvava lui c'è da dove andiamo a vedere se c'è un po' di libri qua in giro è arrivati a fai 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 scurri le droga ah i libri oh questo è un gioco per dell'attivizzatore non mi ricchi ma chi è entrato? che è quello che è un chaspe che scurro la sinistra? ah no tutti dei disinfestatori brava le braccia no è così no aspettate che eh si 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 eh è una casita quattro 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 che si che scappano qui ma soprattutto perchè la copia è quella che ha di cooperativa poi c'è questa che cazzo da vivello 26 qui c'è le armi ma le armi mi piace ma puoi fare anche qualcosa di divani incendiaria ma è anche tipo magia e quello del genere c'è la classe pesa la classe Io c'ho quello che tira le frecce, gli altri c'hanno le pistole, c'è la tipa che c'ha il raggio magico qua, che ci stupra La magia cambia in pazza le due ragioni, la mia gente c'è passare il fogo o buttare le fogo, c'è uno del cazzo e fare le cazzo Dei cazzo in cilie però No, 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 non c'è Sembra con te, eh? Sempre, eh? In pista, in ultimi minuti Ah, si muore, si rinasce? Sì, cioè ti vengono migliori, ti muore mai lì Ma quindi cos'è il tank? C'è qualcosa tipo il tank? Sì, sì, c'è il rattore gigastro C'è un super rattore Quando hai aiuto? No, grazie Oh mio Ciao C'è il tank, il rank, il rank tattoo Ah, il rank tattoo, sì Non niente Beh, devo dire delle cazzate Non niente, sono niente Sono niente Non niente Non niente Sì, è tipo, tipo, da un bocca, tipo Buon Che è quel coso là? Incoming C'è qualcosa da verde, eh? Eh, è arrivato È arrivato È arrivato È arrivato Dove non mi faccio? Eh Tank Il tank Perché adesso vede... Ti vedeva blu? Oddio, quello guarda Sì, sì, va blu, sì, sì Sì, c'è la protezione Sì, sì Ti aiutate Ma facendo? Ma facendo? No 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 Eh, stop No 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 Eeeeg Ma si può saltare Che cura è Morto Ma non muore mai E' uno spazio proprio Che cavolo Ho due frecce Non ho più un cazzo Oh mamma mia Vieni via 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 C'è il tome C'è il tome C'è il tome Oddio il tome Andiamo a salvare Peppe de Poncio Oddio il tome è decollected Vedo Gran figata Gran figata Dio ragazzi che te lo ho E' morto Oddio C'è il tome Oh cazzo Oh cazzo No no ma l'ho fatto è andato tutto bene Ma era giusto un uomo Bon Andiamo sopra a giocare a CS ragazzi Ok 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 E' una disinfestazione E' una super disinfestazione Ah sto arrivando sopra Stiamo arrivando Ho due di vita Stiamo arrivando Abbiamo dei bouncer Cazzo 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 Facciamo le granate Prendiamo le granate Andiamo ai medici Dove 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 Tomo Tomo Aspetta che Vado a salvare Tomo Tomo Ma si fa E' stata assoluta Un trasporto Tomo Tomo Ma ci stanno altri tome No Mi ha incurato le cazzo di stia Ah no Me ne hai preso C'è stata una granata Eh l'ho fatto un cazzo io Ma che ti Dove sono da daturare? Niente Erano... Era lì in fondo Lì c'è una proporzione Lì so Ecco ma Lui Eh Sul tavolino Dio Eh C'ho metà vita E Per fare tutto il giro Metà vita Ma Stanno altre munizioni Stanno la porzione Ivan Arrivo 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 No Due di vita Ecco cazzo Dove dove andà? Dove dove andà? Dove dove andà? Dove dove andà? Eh Beh beh devo un gel Beh beh devo un gel Beh 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 Mi sa che dobbiamo salire sopra 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 Questa era Questa è Questa è Io c'ho il tome È il tome Che è il tome E' il libro, è lì, oddio E' il più buono della finita Se venite con me Lo vediamo come ci vediamo C'è cosa ha già fatto ragazzi C'è che ti ha lasciato tutti Mi avete appantonato C'è un po' di chi Dio ragazzi, abbandonato E' un cazzo di libro cioè C'è un po' di chi E' un po' di chi E' un po' di chi E' un po' di chi Guarda, dico così Guarda, dico così C'è questa roba Ti ha portato i galop E' un po' di chi E' bisogno di vita Qua c'è questa, non c'è la rimasta Ma c'è un altro dom, dovete prendere su lì Assolutamente, però non puoi portare più pozioni C'è un po' di chi Non andate a me, non andate a me Pezzo di palo Eeeh, non vorrei curare mio, perpettino C'è un po' di chi E' un po' di chi Un po' di chi Un po' di chi Un po' di chi Wasted, però Sì Volevo andare io prima, come no? Come no? Seguendo quello che era Quello gioco Si si Ci sono delle bibite qua Bibite arrivo io Oddio, ho fatto un calo del BPS e è portato Sì no cazzo Bibitone Guarda c'è un topolino dentro Cosa hai fatto il bibitone Sì si Pre-workout Brava C'è ancora la granata Incentiale Bravo Iman Incentiali Incentiali Stiamo giù, dai Nooo C'è un cazzo che mi dico adesso Ok? Incentiali Oh iroitz Roitz Incentiale dello strength Cercatevi questo No 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 c'è quello che impala dietro Impalatore Oh Ecco la Ma la terra a me Siamo de la fortezza De la fortezza a me De la fortezza Ecco Dio Ho bevuto la fortezza? Un cazzo Bravo, Eva, bravo Come vogliamo Sì, sì Si, 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 si Si apre questa porta qua che si fonda Ah, no Scusi 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 Dio Aia, aiuto Scusi Scusi E' meglio arrivano tre patti Scusi Scusi Formula No, ma quelle è che? Probabilmente c'è la strada Arrivano Oh Dino Tome Sì, lasciamo anche che uno ci abbia più livelli avrebbero avuto la possibilità di lasciare un arco Il Grey Wizard? E' bugata questa cazzo Ah beh, che bugata Oh, guarda che headshot E' un giardino Alla fuori è un giardino, un metri stop Qua ti fai male cadendo dall'alto, no? Un po' sì Lo vedo, quello tiene un pozzio E quindi se io mi voglio curare adesso devo lasciare il libro Eh sì, lo lasci per un altro che vuole Ma quindi ve li pagate tutti quanti, gli agenti o... Sì, sì, sì Ah Oh, la si è esplosso Che è questa roba non è così È mia, mia, mia È mia mia Ma se dei suoi da metter Are you? Ma dove pure? Calumna sta a morendoli E anche io sono stata un belico Hanno da faccolero Se ne è pioguta io, ma che ho tutta la vita che ho fatto via Dove qui c'è un altro affanculo? No! No! C'è un affanculo? C'è un affanculo? C'è un uomo! C'è un granite! C'è un granite! Mi ha usato ancora una bomba! La bomba, la bomba, chi va la bomba? Un altro vermino! C'è un pocaïna, è una propura razza! All of mystery! All of mystery! Tu t'acabizou, t'acabizou! No, tu t'acabizou! T'acabizou! Si! 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 Qua v'han disceso! Destrata! Tutte delle bombe che abbiamo buttato! Non è andata! Mi piace, ho poca vita! Oddio! Oddio! Poca! No, non è andata! Oh, non è andata! Mi serve un pocaïna! Mi serve un pocaïna! Mi serve un pocaïna! No, no, dietro c'è un pocaïno! No, dietro! Oh, scendi e giù! Sì, è un pocaïno! Si! Mi serve un pocaïno! Come faccio lasciare la punzione? Posso usare? No, no, no! Non c'è un pocaïno! Non c'è un pocaïno! Non c'è un pocaïno! E' un pocaïno! Sì, è un pocaïno! Allora! Non c'è un pocaïno! Oh, scendi e giù! Non c'è un pocaïno! No, non c'è scritto! E' un pocaïno! Oh, dietro dietro! Sì, mi piaceva la mia Non, 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 non Sì, è un po' di più E' un po' di più E' un po' di più E' un po' di più Non c'è un testo troppo niente. Ma questi Hurtpats adoro le loro toy! Potiega! 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 Oh! No! E' un imparatore! E' un imparatore! E' una roba, la città! Che peso è? Quella c'è una brucia Questa è una stunta No, no, no! No, no, no! Guarda che faccia di merda con i suorci C'è Super spultone Guarda dai dietro. Dio E' da potion qua, bravi bravi E' da potion Qua c'è? Cazzo si, ma capito tutto qua Oh porco, qua siamo ancora da più Se cadiamo giù siamo nella cacca Fattore E' da speciale E' il tank che ci buttò giù? No, tutto capo sotto Che cazzo è? Ho spingato qua Oppa mi cerce la porta Oh no Rompi, rompi la porta Magari riesci giù qualcosa Dai, come vai No, no, sempre di un quarto E' di occa Cazzo, ah no, che cazzo Ma poi ti impale il socio Ho il Grimone Ma c'ho, guarda quante vita c'ho Non c'ho un cazzo raga di vita Ecco Ma perché ce n'hai di più? Oh no Hai raffatto il Grimone, che cazzo hai fatto? Chi è? Chi è stato? Chi è Ah 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 Grazie a tutti! cacca, cacca c'è una caccia qua dove dove Sì, è vero. proviamo ad andare sud qua, dietro abbiamo un morio, il mio morio poteva usare cos'è? è sparito? è sposto il mio morio possiamo andare? se c'è qualcosa da questo lo so subiamo la... è ucciso! torciaci una cazzo cazzo, sto sempre da sui dai, non è più scacciato ma che cazzo state facendo? scacciato vieni, vieni, vieni ma cosa state facendo? cosa state facendo? vai, lo posso dire no no a little help back here no i'm gonna die i'm dead that's both grimoires now Sì, vabbè, vabbè Guazza di merda Io? Eh, guarda, io non ho più amma, no niente C'è la, c'è la bozza, c'è la Un momento Sì, vabbè, vabbè Non poteva, vabbè Ah, poteva, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè 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 che assurda! Eh, devo andare a mangiare adesso, so che non è buono diretti. E la madonna quantità ne ho fatto, ma che è? Senti che musichetta, la tristezza. Salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito, salutiamo anche Forex che salutava Zoki, che salutava me, che salutavano tutti quanti. Vediamo qua che hanno sbloccato questa faccia da merce. Allora siamo spaccati da merce. Se vi piace questo gioco si chiama Vermentide M1 Hammer, è un 20.000. Lo leggete dal titolo di questo stream. Non ben capitate del item you wish to change traits for? Alla prossima! Buon appetito a tutti.